Doveva essere un giorno felice quello della riapertura per Rosario Catone, titolare della bruschetteria da Cato in Baia Flaminia, e invece si è trasformato in un incubo. I paraventi rimovibili utilizzati dal ristoratore per proteggere i tavoli allestiti all'esterno del suo locale, sotto il portico, non sono passati inosservati ai condomini dei palazzi circostanti, che avrebbero lamentato proprio in quell'area la mancanza di passaggio. Così alle 18 di ieri hanno pensato bene di mandare la polizia municipale a fare i controlli, la quale però non ha ravvisato nessun tipo di anomalia nell'allestimento del ristoratore. Oggi, di fronte alle telecamere di Fano TV, lo stesso Catone si è sfogato, protestando proprio contro quei vicini che non lo hanno fatto lavorare nel giorno della ripartenza. Ieri cosa ho fatto? Io naturalmente ho messo questi paraventi, però io sto attento, siccome ci tengo alle persone, perché comunque non ho mai guardato solo nel mio orticello, quindi voglio specificare che ieri quando ci sono avuti i controlli hanno trovato chiuso, ma ho appena finito di montare alle 5.35 alle 6.10 già c'erano i controlli, che ripeto, loro sono stati gentilissimi, fanno il loro lavoro. Niente, solo che come funziona? Io ho fatto in questo modo, naturalmente l'ho diviso, che quando c'è molto vento, naturalmente prendo questo pezzo che è muovibile e me lo metto per quelle tre ore a cena o due ore a pranzo, perché poi dico anche non è giusto che la gente deve passare qui nel mezzo col cagnolino, che è la gente che mangia. Allora, capito, ci sono delle cose che non va bene. Poi noi, attenzione, noi sto solo pubblico, pago, eh? Io non paghiamo. Adesso studiamo quest'anno che comunque ce l'hanno abbonato, però noi paghiamo. Però, ok, quindi naturalmente cosa funziona? Chi è la sera? Stasera, quando chiudo alle 11.30, come stamattina, questo si sposta, lo tolgo, lo metto dentro, ok? E quindi, allora, la mattina comunque, quando io sono chiuso normalmente, ho lasciato lo spazio, lasciato lo spazio. E qualcuno ha avuto il coraggio di protestare e mandarlo? Sì, protesto, subito, che dopo, anche quella roba lì che io proprio non concepisco, anche sto buonsenso, dopo otto mesi che sono chiuso, otto, ma anche maggio è come se fossimo chiusi, perché ragazzi non mi prendete per il c***o col tempo così, il contentino, capito? Però c***o non ce la faccio più, anche sto buonissimo, per forza che dovessero essere tutti buoni, però dentro, capito, e gente come me ce n'è tanta. Quando sono venute a farli controlli, la polizia municipale le hanno detto che lei era in regola? Sì, sì, no, no, assolutamente. Io comunque ho fatto la mia domanda, ho il permesso del solo pubblico, e niente, io non ho fatto altro che metto, ho messo, c'è nella domanda, si chiamano paraventi, l'altezza 1,70, come dice la legge, movibile, come avete visto, è tutto movibile, oggi voglio dire comunque al governo, a Draghi e tutti quanti, oggi sono aperto, ho dovuto chiamare il cuoco che era contento, una persona, un'altra persona oltre me, e poi sono piccolo, però due persone, oggi chi c***o, chi è che le deve pagare? Cosa fanno oggi? Chi c***o viene a mangiare? Quindi non so, svegliatevi, comunque la gente come noi, ce n'è tanta come me, è stufa, siamo stanchi, siamo stanchi. Grazie. Grazie.